La presenza di magma nella profondità dell'Appennino meridionale potrebbe essere la causa di importanti terremoti. Una significativa scoperta che interessa anche la Campania, risultato dello studio pubblicato su Science Advances dal titolo Seismic Signature of Active Intrusions in Mountains Chains e condotto da un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia. Il lavoro di ricerca, focalizzando l'attenzione su una sequenza sismica che ha interessato l'area del Sanio Matese, ha dimostrato come intrusioni attive di magma sotto l'Appennino meridionale possano determinare terremoti di magnitudo significativa e più profondi rispetto alla sismicità tipica di quell'area. Le catene montuose sono generalmente caratterizzate da terremoti riconducibili all'attivazione di faglie, che si muovono in risposta a sforzi tettonici, ha spiegato Francesca Di Luccio, geofisico INGV e coordinatore, con Guido Ventura, del gruppo di ricerca. Tuttavia, studiando una sequenza sismica anomana, avvenuta tra il 2013 e il 2014 con magnitudo massima 5, abbiamo scoperto che questi terremoti sono stati innescati da una risalita di magma nella crosta tra i 15 e i 25 chilometri di profondità. Un'anomalia legata non solo alla profondità dei terremoti di questa sequenza, tra i 10 e i 25 chilometri, rispetto a quella più superficiale dell'area, minore dei 10-15 chilometri, ma anche alle forme d'onda degli eventi più importanti, simili a quelle dei terremoti in aree vulcaniche. È da escludere che il magma che ha attraversato la crosta nella zona del Matese possa arrivare in superficie formando un vulcano, ha aggiunto Giovanni Chiodini, geochimico dell'INGV, precisando tuttavia che se l'attuale processo di accumulo di magma nella crosta dovesse continuare, non è da escludere che alla scala dei tempi geologici, ossia migliaia di anni, si possa formare una struttura vulcanica. I risultati della ricerca, oltre a fornire interessanti informazioni su meccanismi di evoluzione della crosta terrestre, consentono una più accurata conoscenza della sismicità delle catene montuose e dunque una più accurata valutazione del rischio sismico.